buongiorno a tutti ho una super notizia domenica 19 faremo qui in Umbria ancora non posso dirvi nulla ve lo dirò martedì come prenotare come fare un pranzo dove dalle 11 alle 13 sarà l'experience con nonna maria che vi insegnerà a fare i cappelletti più pranzo con nonno faustino e tutta la nostra crew venite tutti che vi voglio conoscere durante il pranzo affetteremo il prosciutto faremo tutte le gag sarà un modo per stare insieme per prenotare questo pranzo dovrete aspettare martedì ma intanto ve lo volevo dire perché sono proprio proprio contento potete venire anche solo a pranzo quindi da mezzogiorno e mezzo in poi e non fare l'experience con la nonna però questo dopo decidete voi noi vi aspettiamo i posti sono limitati quindi martedì vi metterò il link come partecipare lei è il signorino che fa il bis con la pasta al gorgonzola ma io sono qui che vuoi mangiare ah bis addirittura guardate trema il braccio guarda che lavoro metta a me mi trema il cazzo nooo ma guarda ma no si tutte 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 tutto lo mangia e io cosa mangiare sto cazzo posto oh è leccato anche il cucchiaio guarda guarda che sozzo guardate 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 guarda che sozzo guarda 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 lo ha leccato anche il cucchiaio guarda guarda tutta la padella è leccato ma ho fatto i cazzo miei no sì questi in poi tu che non fai due questi mini mannaggia che importo